Ma come fare dei bellissimi foxy eyes super felini ed allungati se abbiamo l'occhio incappucciato? La prima cosa che ci serve e che ci aiuterà tantissimo è un pennello come questo dalla forma leggermente schiacciata. Comincio prendendo un po' di questo marrone abbastanza scuro, battiamo un po' l'eccesso per non trovarcelo poi su tutta la faccia. Inizio ad applicarlo nella parte inferiore dell'occhio partendo dalla metà e me lo porto poi pian piano verso l'esterno. Finita la codina potete portare leggermente il colore all'inizio della rima superiore. Quello che dobbiamo fare adesso è andare ad intensificare questa codina con l'ombretto nero e per farlo utilizzo un pennello molto sottile e piatto. Io uso questo di Neve Cosmetics che si chiama Green Detail. Mantenetevi quanto più possibile vicino alla rima e definite tutta la zona della codina che avevamo creato precedentemente con il marrone. Ora con un pennellino angolato prendete un po' del marrone che avevamo utilizzato prima e andate a definire l'angolino interno dell'occhio. Per finire prendete una matita gajal lunga tenuta e applicatela sotto l'attaccatura delle ciglia superiori. Con l'applicazione del mascara concentratevi soprattutto nella parte finale dell'occhio. Grazie. Grazie. Grazie.